Poche centinaia di metri dall'uscio di casa ed eccomi in pieno parco archeologico della Appiantica. In primavera, anche con cielo coperto, la bellezza di questa imponente opera senza tempo diventa travolgente. Nel verde della campagna romana, passeggiando tra paesaggi tipici ed evocativi di tempi lontani e arcaici dell'agro romano, è come se l'anima di luoghi riemergesse. Nel profondo, la bellezza di questi luoghi, esaltata dalla luce e dai colori primaverili, può provocare quel senso di smarimento che ha ispirato poeti e scrittori. L'antica via Appia, un rettilineo scolpito nella pietra, collegava Roma a Brindisi, da cui iniziavano le rotte commerciali per la Grecia e l'Oriente. Universalmente ritenuta, una delle più grandi opere di ingegneria del mondo antico fu completata dopo oltre un secolo di lavori nel 190 a.C. Le grandi pietre laviche che la compongono poggiavano su vari strati di pietrisco e terra, secondo un sistema che ne assicurava un drenaggio ottimale. Ai lati i percorsi pedonali sterrato erano quelli interrotti da monumenti sepolcrali di varia forma. Qui furono collocate per la prima volta le pietre miliari per indicare ai viaggiatori le distanze percorse. Per le tante rivoluzionari innovazioni la via Appia fu presto chiamata Regina Viarum e costituì il modello per le grandi vie romane e quindi europee, tanto resistenti che furono utilizzate per più di dieci secoli come uniche vie di comunicazione. L'impatto economico militare e culturale che essa ebbe sulla società romana fu enorme, contribuì a consolidare il dominio di Roma sull'Italia meridionale. Fu, fin dall'inizio, una fondamentale via di commercio con la Magna Grecia, determinando una grande apertura della società romana verso quella cultura. La strada che unisce e accoglie è sinonimo di un mondo aperto, il mondo di una Roma imperiale feroce nella sua sede di conquista ma nel suo pragmatismo inclusiva, si potrebbe dire, levatrice della prima grande globalizzazione della storia. Sull'antico basolato è un susseguirsi di testimonianze storico-artistiche e culturali inimitabili. Alcune di queste sono famose in tutto il mondo, come la tomba di Cecilia Metella, con la sua caratteristica forma cilindrica in marmo, inglobata secoli più tardi nel castello dei Caetani. La villa di Massenzio, con il maestoso circo forse mai utilizzato, ed il mausoleo dinastico che si dice fosse adottato come modello dal palladio per le sue ville venete. La villa dei Quintili, di età adrianea, un condensato di architettura e stili di vita romani. Come spesso accadeva in quell'epoca, il controverso imperatore Commodo nel 182 se ne appropriò, accusando di complotto e facendo condannare a morte i legittimi proprietari, i fratelli Quintili. L'ingresso, sormontato da due colonne, si apriva con un monumentale ninfeo a due piani. Nella imponente zona residenziale sono ben conservate le suggestive strutture termali e la zona abitativa. La maestosità delle vestigia fece a lungo pensare che si trattasse di resti in un'altra città, ma in realtà era solo una sterminata residenza privata. La necessità di tutela del patrimonio storico-archeologico e paesaggistico dell'antica via, costantemente a rischio di speculazioni edilizie, come testimonia la sequenza di ville private, è stata una lunga battaglia ambientalista condotta in primis da Antonio Cederna, che portò finalmente nel 1988 all'istituzione del Parco regionale dell'Appia Antica. Si dice che i romani costruissero per l'eternità e le spoglie di questa maestosa opera, pensata per unire, ne sono la plastica testimonianza. Nel tempo dei muri è difficile immaginare un ancoraggio più solito e che ancora oggi può offrire visione e speranza alla nostra sofferta ed incompiuta vicenda di europei.